io direi dalla mia parte mi preoccupo più per i turisti perché ieri qui c'erano tanti gruppi penso che più che una cosa che vada a discapito nostra sia una cosa che vada a discapito dei turisti diciamo che abbiamo perso un po di fiducia un po di tranquillità perché alla fine a questo punto anche per 10 euro ti possono fare una rapina ce la siamo vista brutta qua la paura purtroppo tutti i giorni siamo alla merced di questi vandali per noi commerciale che lavoriamo qua e noi rimasto un po un pochettino di deluso di quanto guarda la controllo di questa zona poi avete subito anche 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 il resto da qui abbiamo armato incappucciati mia moglie stessa è stata ferita più volte si vive sempre uno stato di ansia siamo anche ancora sotto shock quindi il nostro sindaco carissimo invece di pensare alla festa di sant'aria dalle bombe faccia qualcosa iniziate qui sta bene